Sei libero stasera per cena? Ah, ci vengono io, ci sono... Puoi andare, grazie dottore. Sì, certo. Oui, oui, je suis là. D'accord. Boh, vuoi che me lo metto stasera? Tu es un gros cochon, tu, eh? Alla prossima rotonda andate a destra. Alla rotonda a destra. Ora ci dovrebbe essere una strada sterata a sinistra. Prendetela. E' perché ci stanno tenendo d'occhio. Il nostro amico è molto prudente. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.